minasan konnichiwa e benvenuti sul mio canale passeggiate giapponesi sono Eliano la vostra guida culturale in Giappone amici di passeggiate giapponesi salve oggi sono venuto a Ebisu che è una delle stazioni più popolari del circuito della Yamate-sen che sarebbe la circolare interna di Tokyo sono venuto qui perché per due motivi uno per farvi vedere a proposito di Ebisu che sarebbe come vi ricordate uno dei sette Fukujin cioè i sette dei portafortuna come dicevo una volta e dove oggi c'è un piccolo mazzuri cioè è un avvenimento annumale e vi porto un momentino a vederlo l'altro che si trova poi a parte tutto negli antipodi della stazione e nell'altra parte invece l'Ebisu Garden l'Ebisu Garden che è un complesso già ormai di una ventina d'anni in totale dove dove regna praticamente la birra Sapporo e ha creato questo la birra Sapporo all'interno della birra Sapporo c'è appunto gestita la birra Ebisu che io poi ingordamente andrò ad assaggiare adesso facciamo questa passeggiata e spero che vi piaccia ci vediamo poi la prossima settimana arrivederci Allora oggi siamo vicini alla stazione di Ebisu Ebisu che è una delle stazioni più centrali del circuito interno di Tokyo e qui c'è in atto uno dei mazzuri quando ci sono i mazzuri in Giappone si mangia e si beve qui ci sono un paio di Miko e adesso andiamo a dentro questo piccolo Jinja si chiama Ebisu Jinja e comunque quando sia stato fondato nessuno lo sa viene tramandato già in epoca protostorica parliamo del secondo secolo dopo Cristo però in effetti testimonianze precise non ci sono oltretutto c'è da dire che il santuario per sé è stato riposizionato questo è sicuro qui in epoca sciova parliamo di un centinaio di anni orsono per cui non non è un tempio antichissimo come diciamo come struttura e comunque come tradizione invece lo è adesso io posizionerò la camera in un modo un po' così e poi andrò mi avvicinò a vedere un po' che cosa com'è la storia naturalmente adesso vi faccio vedere più o meno quello che si riesce a vedere da qui ecco vediamo un po' ecco lì ecco si vede un po' l'interno comunque i santuari escinto non sono l'interno è praticamente di poca importanza nel senso che e la deità non si può vedere ergo in alcuni tempi proprio non c'è niente per cui meglio di così perché si dice che se si potesse vedere la deità si rimarrebbe ciechi per cui anche quando voi visiterete in giappone vedrete molti tempi cinto che sono sono praticamente chiusi proprio per questo motivo bene adesso entro anch'io anche mi avvicino poi sposterò ancora la camera faccio come al solito il mio anchino chiedendo il permesso di entrare in questo luogo perché ricordo sono due luoghi diversi cioè il fuori e dentro si entra dentro anche se è all'aperto per cui ricordate quando venite in giappone che si entra anche se se si rimane su all'aperto qui c'è la sulla destra la fonte per le abluzioni ecco andiamo a lavarci le mani anche noi una punta delle dita grazie adesso ci rimettiamo in fila ok 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 essendo all'aperto oggi faccio finta di fare lo straniero e non metto la mascherina anche se qualcuno mi guarda per traverso in effetti allora riposizionata la camera adesso anch'io vado lì questo è un gesto che si fa sempre rituale anche perché per portare rispetto al luogo oggi oltretutto c'è proprio la festa insomma per cui casomai dopo vedremo se c'è qualcosa di simpatico da sgranocchiare il grano chiare ecco questo è quanto questa è un po' la visione di questo piccolo gingia e bisu gingia e oggi è la festività e la ricorrenza Dio con dopo settembre ottobre incominciano un po' tutti i mazzoli dell'autunno perché l'autunno è appunto la stagione della raccolta e diciamo si tirano le somme un po' cominciano a tirarsi le somme dell'annata ricordo che la tradizione giapponese soprattutto dello Shinto è agricola per cui tutte l'avvicendarsi delle stagioni sono tutte feste importanti e propiziatorie qui che cosa stanno facendo stanno facendo il filo agli strumenti da taglio perché il protettore e bisu perché questo era dedicato questo tempio era dedicato al Dairokuten ma comunque qui siamo nella zona di e bisu come ho fatto all'inizio vicino alla stazione e qui praticamente gratuitamente fanno una porta il proprio coltello e gratuitamente lo affilano questo è comunque un fatto tradizionale e poi all'uscita mi hanno regalato una bottiglietta di Calpis Water le vie sono strette c'è da fare attenzione insomma passano pure le macchine nonostante allora come dicevo mi hanno regalato questa bottiglietta che è un Calpis Water è un è praticamente fatta con un siero di latte acidulo ma chi lo sa poi lo bevo magari si trova qualche cosa anche da mangiare da sganocchiare ma diciamo che tutta la strada qui è in festa fino alla stazione adesso prendo qualche fotografia così poi vedrete anche le fotografie ecco qui ma logicamente ci sono anche i giochetti anche perché adesso non è il momento ma poi ci saranno un sacco di ragazzini e ragazzine che vengono qui adesso diciamo è l'orario siccome è ancora giorno è l'orario in cui si mangia si compra da mangiare qui vendono della frutta ecco vedete un po' e questo fino alla stazione così qui vendono il famoso takoyaki qui invece delle caramelle comunque anche qui in Giappone tutto è aumentato perché un set di takoyaki viene a costare adesso 600 yen come c'è scritto qui mentre normalmente era almeno 400 insomma è un po' tutto aumentato anche se chi viene dall'Europa in questo momento guadagna molto perché con l'orient quasi 150 un euro quasi 150 yen veramente io invece mi sentirò poverissimo quando dovrò fare dovrò magari andare in Italia qui ci sarà sarà da piangere ecco qui tutte le ragazze che sono uscite da scuola queste saranno già delle liceali qui vengono qui a mangiare qualche cosa prima di tornare a casa io sto mangiando delle specie di crepe di formaggio dentro c'è formaggio non so se riesco a farvelo vedere comunque sono croccati si sente? ma non è che sia tradizionale giapponese però è buono qui c'è la bandiera italiana che sventola vabbè non è sola però insomma l'hanno messa addirittura al centro per cui mi sembra un grosso onore e qui c'è guardate un po' guardate un po' questo palazzo sulla destra nascosto qui da questo grosso albero Sapporo Sapporo mi domanderete che non è a Tokyo è in Hokkaido però Sapporo è anche la marca di una nota marca di una birra buona che credo che gestisca anche la birra Ebisu adesso andiamo a vedere ecco allora qui siamo al museo della birra Ebisu è scritta Ye Ebisu però questa è la forma antica di scrittura giapponese tradotta ovviamente in carattere latini adesso si dice direttamente E senza la Y davanti beh non c'è che dire l'entrata promette bene no? o non vi pare? ecco adesso scenderemo giù e faremo una piccola visita a questo museo ci dirà un po' la storia di questa birra che ha oltre un secolo perché è stata fondata nel 1890 e qualche cosa comunque adesso vedremo un po' più da vicino e questo è il modellino degli stabilimenti di una volta e di birra ci sono anche i ricordini e comunque interessante io penso che da qualche parte ci si possa sedere e anche bere una birra dunque io mi sono lasciato convincere ho preso qui un paio di salcicce con crauti e un po' di mostarda e un paio di birre un paio di birre perché questa è una birra speciale che non si vende in città vende solo qui e poi ne ho presa un'altra giusto per assaggiare perché stanno finendo le scorte non la ripeteranno più e questa birra è un po' più scura dell'altra comunque adesso la assaggerò e poi vi dirò qual è stata la mia impressione io non sono un grande bevitore di birra però se è buona per carità ecco questa l'ho trovata una birra soddisfacente ecco ho dimenticato di dire che mi hanno dato anche un souvenir naturalmente non lo danno a tutti ma io sono stato fortunato perché c'era appunto il il regalo e a me è capitato ed è un è uno strap per il telefono comunque è una stupidaggine comunque simpatica un ricordo e chissà poi in futuro che cosa daranno questo logicamente è una è una piccola un piccolo token del del dell'Ebis Garden